Spartanopei, Power Rangers, il risultato è di 1-0 a favore di Spartanopei adesso una buona giocata da parte dei ragazzi del Power Rangers ma Spartanopei che hanno cambiato tutta la formazione, tutti gli effettivi e sicuramente hanno trovato una grande squadra, una buona prova attenzione adesso, la grande giocata per i ragazzi degli Spartanopei manca l'ultimo tiro sicuramente in questa circostanza buona la prova di Pauli, dobbiamo dire però nei Power Rangers ha sicuramente mostrato di saperci fare tre paia ragazzi c'era adesso una serie di lisci che potevano favorire i ragazzi dei Power Rangers rimessa laterale comunque a favore dei ragazzi dei Power Rangers pallone buttato in avanti, palla che viene però spazzata prontamente dai ragazzi di Spartanopei buona questa giocata offensiva, Pauli bravo a coprire in questo caso la palla che termina sul fondo, una bella partita molto accesa dobbiamo dire da tutte e due le parti, le squadre stanno giocando sicuramente un ottimo calcio vediamo adesso questa azione e questo brutto calcio chiede giustamente scusa all'attaccante degli Spartanopei non riesce a ripartire questa offensiva da parte dei giocatori in casacca diciamo azzurra adesso il pallone che viene messo fuori, rimessa laterale a favore però dei Power Rangers attenzione a questa battuta con il numero tre che riceve il pallone pallone che viene allargato, può provare anche la conclusione che viene rimpallata Pauli dovrebbe tenere il pallone in campo, fa bene con i piedi, bene questo rinvio pallone che termina fuori, rimessa, no attenzione, la rimessa laterale a favore degli Spartanopei una partita che come potete vedere è sicuramente molto combattuta adesso può provarci il numero sette, sfortunato nel rimpallo blocca il fortiere, pallone gettato in avanti, lunghissimo questo rilancio Pauli può controllare tranquillamente, bloccare la sfera e rimetterla in campo vediamo il lungo lancio di Pauli, palla che viene, attenzione, questo c'è forse fallo ancora lungo rilancio del portiere, questi rilanci non portano a niente Pauli però può bloccare, ha una serie di lunghi lanci, destra e sinistra non serve a tanto, è finita il gioco si dovrebbe giocare sicuramente più palla a terra adesso la rimessa laterale a favore dei Power Rangers, c'è un po' d'ordine in mezzo al campo vediamo questo pallone teso, il portiere una serie di rimpalli e poi l'ultimo tocco che manca pallone che viene messo giù, ottimo la serie di tocchi, attenzione al numero 8 potrebbe anche provarci, prova ad accentrarti il destro pallone che viene rimpallato da un difensore dei Spartanopei, ultima azione, pallone che viene messo in rimessa laterale a favore dei ragazzi in maglia azzurra vediamo questa azione prima di interrompere questo collegamento, questa azione di rimessa laterale vediamo il pallone che viene messo a terra, palla viene allargata, il colpo di testa che Paoli blocca senza problemi, attenzione al contropiede, palla per il numero 11 lascia sfilare il pallone, blocca il portiere senza troppi problemi la rimette in gioco subito e il pallone viene bloccato da Paoli interrompiamo qui il nostro collegamento